Regna il silenzio nelle sale dei 52 circoli arci di Prato e provincia, chiusi da fine ottobre come nel resto d'Italia, a seguito di una circolare del Ministero dell'Interno, un documento che ha sancito il divieto di somministrazione di alimenti e bevande ai soci e che ha decretato in sostanza lo stop all'attività, estromettendo queste realtà dalla classificazione per fasce di colore. Neppure il passaggio in zona gialla della Toscana potrebbe cambiare le cose. Per i circoli, salvo nuovi interventi normativi, resta solo la modalità dell'asporto e una programmazione di eventi e occasioni sociali praticamente azzerata. Forte il loro grido d'allarme. Nella prima ondata eravamo al limite, ci hanno sostenuto fornitori ovviamente, ma le utenze sono andate avanti. Poi a fine agosto abbiamo avuto questo finanziamento del decreto rilancio e sembrava che finalmente si fosse risolto i nostri problemi. Il problema vero è stato, ed è tuttora, perché non potendo riaprire, non avendo incassi, anche questo finanziamento si sta esaurendo. Quindi la nostra paura è di fare debito su debito. Nonostante tutto si prova a guardare al futuro, un futuro che appare incerto fatto di bilanci in crisi. Il circolo di Borgo Nuovo, che conta quattro dipendenti, stima di chiudere il 2020 con una perdita pari a 80.000 euro. Eravamo un circolo virtuoso, perché noi facevamo da 50 a 70 eventi l'anno. Presentazioni, scene, karaoke, insomma un po' di tutto. E ritrovarsi così da sopravvivere bene con quattro dipendenti a nulla è veramente grave. Se i circoli chiudessero, non ci sarebbero quei centri di aggregazione e di ritrovo sociale, anche per persone disagiate, che consentono la vita e lo sviluppo dei nostri quartieri e che consentono di risolvere problemi. Hanno sorribili anche per il circolo Arci Lorenzo Orsetti di Via Filippino, in pieno centro storico. Inaugurato alla fine del 2019 e subito stoppato dall'emergenza Covid. Nei 200 metri quadri di spazi c'era l'intenzione di creare una cucina, che fosse attiva nel fine settimana, con tanto di lavori avviati. E invece resta l'amarezza per i tanti laboratori cancellati. Le spese aumentano e resta il rebus ristori. Però non molliamo, stiamo andando avanti. Durante l'estate abbiamo gestito comunque i giardini della passerella, abbiamo fatto, credo, un ottimo lavoro anche di riqualificazione degli spazi pubblici. Quegli introiti lì ci hanno permesso comunque di sopravvivere piuttosto bene in questi mesi. Da gennaio spero di avere qualche informazione in più sui ristori, che sicuramente ci darebbe un forte aiuto. Contiamo davvero di organizzare una bella festa dell'unità, visto che sono tanti anni che comunque a Prato non si vede, proprio qui in Piazza Duomo, con la speranza di gestirla con la nostra cucina.